Tutto ebbe inizio qui. Era il 22 marzo del 1888 quando un'apparizione della Vergine Santissima a due contadine del posto, Fabiana e Serafina, accese i cuori di un'intera popolazione. Siamo a Castelpetroso in occasione del 135esimo anniversario dell'apparizione della Vergine Santissima. E dunque venite con noi in questa puntata speciale di Viaggio in Molise. Grazie a tutti. Ed eccoci con Don Fabio di Tommaso, rettore della Basilica Minore di Castelpetroso. E siamo qui proprio in questo luogo davvero particolare che suscita davvero tanta emozione in questo luogo dove appunto ebbe inizio il tutto, il 22 marzo del 1888. Allora Don Fabio, ripercorriamo un po' insieme ai nostri telespettatori di Viaggio in Molise i momenti salienti, quelli che appunto intanto diedero il via a tutto quello che oggi è storia ma soprattutto che poi ha portato, ha condotto i cittadini a realizzare la meravigliosa Basilica Minore che adesso sorge e davvero attira tantissimi turisti ogni anno. Il 22 marzo 1888 in questo luogo c'erano due donne, Bibiana e Serafina, che oltre a pascolare qualche pecorella coltivavano qualche pezzettino di terreno. Bibiana perde una delle pecore, va in cerca di essa e quando raggiunge un luogo, una rupe con una cavità, lì vede una luce, si spaventa, scappa via perché pensa ad aver incrociato gli occhi di un lupo. A quel punto incoraggiata da l'amica Serafina torna indietro e nello stesso luogo vede quello che noi vediamo qui raffigurato in questa stata a bronzia oppure giù nella Basilica, la dolorata con il Cristo morto. All'inizio non dicono nulla, tengono la cosa per sé, poi iniziano a raccontarla. Ovviamente c'è chi crede, chi non crede. Lo stesso orciprete di Castelpetroso, di allora Monsignor Ferrara, era incredulo. Dieci giorni dopo, il primo aprile, il primo aprile anche Serafina, vede quello che ha visto l'amica Bibiana. Questa è stata la prima apparizione e quella più importante, ovviamente perché è la prima. Dopo di questa, tante sono state le apparizioni, ma noi ne ricordiamo ancora due, quelle più importanti e capiamo perché. La seconda, a settembre, l'apparizione avviene proprio davanti al Vescovo Monsignor Francesco Maccarone Palmieri, il quale è stato mandato dal Papa, leone XIII, in vesto ufficiale, per capire cosa fosse questa apparizione, suggestione, fantasia, verità. Anche il Vescovo vede quello che hanno visto le veggenti e credo che sia un fatto molto singolare che un Vescovo veda un'apparizione mariana. Terza apparizione importante, alla fine, verso la fine dell'anno, si recano qui a Castelpetroso il conte Carlo Acquaderni col figlio Augusto, malato di tubercolosi ossea. Arrivano qui e vanno dalla sorgente che è scaturita nel mese di luglio dell'anno dell'apparizione. Premetto che quell'estate era con una siccità consistente. Nel mese di luglio sgorga quest'acqua, Augusto beve l'acqua, guarisce e poi tutti e due, il papà e il figlio, vedono la Vergine Dorale di Castelpetroso. E dobbiamo dire grazie al conte Carlo Acquaderni perché si fa promotore di un'iniziativa, costruì in questo luogo un tempio dedicato a Maria. Contatta l'ingegnere Francesco Gualandi di Bologna, fa un bozzetto, vanno dal vescovo a Boiano, il vescovo approva e quindi nel 1890 inizia la costruzione con la posa della prima pietra. Ed è poi lì storia, nel senso che davvero la costruzione della Basilica Minore poi ergerà in tutta la sua magnificenza davvero dando luce e lustro a tutta la vallata. Ecco, a distanza di 135 anni, qual è la percezione? Anche il movimento di pellegrini che ancora girano intorno a questa ricorrenza? Sì, il fatto dell'apparizione, che sia lontana da noi più di un secolo, non vuol dire affatto che, come dire, quell'evento meraviglioso sia confinato a quel giorno o a quel periodo. I benefici, per così dire, non solo perdurano ma sono sempre costanti e presenti. Intanto basti pensare che il flusso dei pellegrini lentamente aumenta e 40 anni fa non c'era la presenza che c'è oggi di pellegrini ma anche di turisti. Ci sono persone che ignorano l'esistenza di questo luogo magari attraverso un sogno o perché passano qui, raggiungono questo luogo e ricevono delle grazie particolari, quali per esempio delle guarigioni. Parliamo di grazie non di miracoli veri e propri fino ad oggi ma certamente grazie straordinari sicuramente sì. Per cui questo è solo un indice, ce ne sarebbero degli altri, per dirci come questo luogo continua ad irradiare tanta luce, tanta fede, tanta fiducia nella Vergine Madre, nel suo figlio Gesù. Grazie a tutti. Ricordiamo anche che, come dicevamo, sono tantissimi pellegrini che giungono in questo luogo sacro da ogni parte del paese e ricordiamo che molti di loro percorrono proprio i sentieri anche a piedi per appunto la ricorrenza. Quali sono le provenienze di questi gruppi? Certamente possiamo dire che la maggior parte provengono dalla provincia di Caserta, Napoli, la Puglia, i pellegrini fedeli più presenti in santuario. Ma non solo, negli ultimi anni la provenienza è molto più variegata, Lazio, Sicilia, Lombardia, Piemonte, anche dall'estero, Germania, Spagna, Corea. Piccole presenze anche dall'estero ci sono. E naturalmente sia il Comune ma anche ovviamente tutta l'organizzazione della Basilica è pronto ad accogliere questi pellegrini con due giorni dedicati ovviamente a questa celebrazione, quindi dalla Messa o appunto alla Fiaccolata che invece aprirà ufficialmente le celebrazioni ufficiali. Questi due giorni, il 21 e il 22, saranno caratterizzati essenzialmente dalle celebrazioni delle sante messe, le confessioni. Poi ciò che caratterizza in modo particolare questa festa è appunto la Fiaccolata che ci sarà il 21 alle ore 18, dove partiremo dalla Basilica, verremo in processione, ripercorreremo la Via Matris, quindi sette dolori della Vergine Madre, per arrivare qui al luogo delle apparizioni. E questo è un cammino molto sentito dalla gente. Sempre si vede anche d'inverno con la neve qualcuno, si azzarda, faglia la Via Matris per raggiungere questo luogo, perché non è solamente andare a vedere qualcosa, ma è compiere un itinerario attraverso il quale si fa un'esperienza di fede, di incontro con Dio. Ricordiamo i nostri telespettatori, per coloro che magari ancora non hanno in qualche modo mai visitato né la Basilica né la Via Matris, come è possibile intraprendere questo percorso? C'è un sentiero che dalla sinistra appunto della Basilica si intraprende, quindi si può iniziare a percorrere praticamente a piedi e porta fino a questo luogo, quindi giù dalla Basilica fino a qui si può arrivare tranquillamente a piedi. Come nasce l'idea della Via Matris e come è caratterizzata? Siamo negli anni 40. Dopo aver posto la prima pietra e aver iniziato le costruzioni della Basilica nasce ovviamente l'esigenza di collegare la Basilica al luogo delle apparizioni, quindi si pensa a questo sentiero. C'era un'incertezza se rappresentare una Via Crucis oppure una Via Matris, cioè i Sette Dolori di Maria. Alla fine si opta per la Via Matris. Oltre questo nasce poi anche l'esigenza di costruire una piccola cappelletta che è qui vicino, come primo edificio compiuto che potesse in qualche modo consentire a qualche peregrino di raccogliersi in preghiera al chiuso. Ricordiamo che lungo la Via Matris ovviamente, come diceva lei, ci sono i Sette Dolori di Maria raffigurati da sette opere, da sette sculture realizzate da un artista che è originario comunque molisano che è appunto Alessandro Caivani. Sì, grazie a lui abbiamo queste meravigliose sculture bronze, le quali sono molto belle perché aiutano chiunque le guardi, aiutano ad una riflessione quantomeno, ma poi anche ad una preghiera. È un modo per entrare nella vita di Maria e quindi di permettere a Dio di entrare nella vita nostra attraverso queste esperienze del dolore che accomuna ogni uomo.